No e ancora no. Le regioni mantengono il punto e decidono di non ritirare le ordinanze più permissive rispetto alle decisioni nazionali. Resiste il presidente della regione Calabria, Iole Santelli, che nonostante il dissenso di diversi sindaci va avanti per la sua strada e conferma l'apertura di bar e ristoranti. Il governo eviti prove di forza, sostiene oggi il presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini. Da sud a nord ecco il Veneto. Siamo pronti ad aprire tutto, afferma Zaia, che annuncia domani la proroga dell'ordinanza con cui è possibile, fra l'altro, raggiungere le seconde case e riparare le barche. La sfida passa non più ai clinici ma al popolo, nel senso che adesso il nostro futuro ripassa in mano nostra, non è più un fatto farmacologico, sanitario, di cure. Mascherine obbligatorie e guanti sui mezzi pubblici Lombardia, la cui capacità sarà al 25%, obbligo di mascherine e distanziamento sociale anche nel Lazio, dice Zingaretti, dove da lunedì i supermercati saranno aperti fino alle 21.30 e dove sempre da lunedì riapriranno i set cinematografici. L'obiettivo, afferma il presidente della regione Lazio, è di aprire in totale sicurezza, puntando ancora per maggio sullo smart working. Non ha polemiche, conclude, ma... Ci vuole uno scatto in avanti di un'intera classe dirigente per indicare al paese un futuro possibile migliore del passato all'insegna dell'unità e della concordia nazionale. Altro tema è il rientro al sud di molti meridionali che vivono nelle regioni del nord. Tamponi e quarantena in Campania, Basilicata e Puglia. Quarantena anche per Calabria e Sicilia, che comunque resterà blindata almeno fino al 17 maggio per i turisti.